10 aprile 2020 si festeggia il 168esimo anniversario della fondazione della polizia di stato mi chiamo renato fiacchini in arte renato zero figlio di domenico fiacchini un poliziotto e a questo proposito vorrei ringraziare mio padre per avermi offerto l'opportunità di conoscere la forza e la grande utilità di questa istituzione eravamo io e le mie tre sorelle ad attendere il 6 gennaio per andare a ricevere il pacco della befana della polizia di stato una grande festa nella stagione estiva attendevamo sulla cristoforo colombo il passaggio di questi camion della polizia che ci prelevavano e ci conducevano sulla spiaggia di ostia e precisamente nello stabilimento balneare mediterraneo queste carezze queste attenzioni verso una categoria estremamente esposta hanno reso ancora più forte l'attaccamento dei familiari verso questi uomini verso queste persone oggi voglio ringraziarvi per tutto quanto è stato da voi fatto fino a oggi e per quello che farete domani per garantire al nostro paese sempre quella stabilità e quella preservazione di cui abbiamo tanto tanto bisogno un abbraccio forte da renato fiacchini e da renato zero ciao